Noi eravamo venuti per bere il caffè e siamo pronti. Noi eravamo venuti per bere il caffè. 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 ieri la cronometro e anche le squadre a completo. ecco sono quasi pronti alla fine partenza della giornata grazie La prima gara della seconda giornata qui alla cavallina di Lunato. Fanno otto giri questa è la prima partenza e gli dico guarda che vengo al giro che mi è capitato per l'ingresso a Roma. Allora sono andato a vedere perché Gesù quando racconta qualcosa sapevano le cose funzionavano così. Allora c'era l'Italia che aveva soltanto i beni e le ricchezze e le tavola in amministrazione. Sono pronti per la seconda partenza della giornata. Questa è la seconda gara. Non so se anche loro fanno otto giri. Erano nove e l'hanno tirato via uno. Eccoli qui gli atleti. Grazie. 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 Ecco la scorsa tecnica, mi sembra che ci sia già in atto una fuga, l'Oda Millennium. Ecco qui, sono già passato una decina di secondi, ecco il postulato, il fila indiana. Il primo giro, il primo degli otto giri, c'è nata una fuga, un atleta dell'Oda Millennium avrà una decina di secondi, sembra che ci sia nata una fuga. Un po' la macchina è in soccorsa, sembra che... Che sia, sia ancora Corrado dell'Oda Millennium in fuga, sin dal primo giro, Corrado dell'Oda Millennium. La tecnica, sono già passati 15 o 20 secondi, ecco qui il gruppo sfilato in fila indiana, mi sembra Edoardo Casari con tutti i team Casari nelle prime posizioni. Due minuti dal fuggitivo Corrado dell'Oda Millennium. E' nata una fuga anche nella seconda gara, guardiamo... 45 secondi. C'è già 2-3 atleti, guardiamo il loro vantaggio. L'Oda Millennium. Questa è la seconda gara. ré signora prima. 5 secondi. La macchina ha percorsato da molto lontano, l'abbiamo, si è corrata dall'Oda Millennium, è ancora in fuga o è stato ripreso. Ecco la macchina, ecco mi sembra ancora, mi sembra ancora Corrado, Corrado, Corrado l'Oda Millennium, terzo giro, terzo giro che è in fuga, l'inquadro è molto molto lontano, gruppo che insegue avrà corrato una ventina di secondi, 20 o 30 secondi dal gruppo, gruppo ancora unito. Ecco lì qui. Ecco lì. Ecco lì.